Dal 1876, gli irroratori Birkmeier, migliorati di generazione in generazione, leggendari, affidabili. E adesso, il nuovo polverizzatore a spalla RPD 15. Da un'azienda esigente per clienti esigenti. Prestazioni straordinarie. Comfort tangibile. Geniale! La pompa nell'impugnatura. Efficiente. Compatto. Leggero. Unico. Spruzzatura di efficacia comprovata. Subito pronto per l'uso. Pratico da utilizzare. Con cinghie a scatto e altezza regolabile. Design migliorato. E non basta. Offriamo anche il comprovato programma accessori Birkmeier. A vostro vantaggio. RPD 15. Da un'azienda esigente per clienti esigenti.